Io mi spingo dal bordo, faccio una serie di movimenti veloci, anche un po' convulsi, nella speranza di uscire il prima possibile dall'acqua per iniziare a nuotare, ma in tutto questo c'è qualcosa che non va. Se serve lo ripeterò all'infinito, tutto quello che facciamo una volta che ci spingiamo dal bordo è importantissimo, perché influenzerà tutto quello che succede nel corso della vasca, soprattutto se siamo in una vasca da 25 metri. E quindi, a costo di essere noiosa, lo dirò ancora una volta. L'acqua è densa, oppone resistenza al nostro avanzamento, e più siamo veloci, maggiore sarà questa resistenza. Quindi dobbiamo trovare ogni modo possibile per ridurre questa resistenza, e lo possiamo fare solo in un modo, ridurre la superficie esposta all'attrito. Vediamo cosa intendo con un'applicazione pratica. Immaginate di fare gambe con la tavoletta, come siete sempre stati abituati. Quindi, tavoletta distesa davanti a noi e gambe. Ok, per ora chi va più veloce e chi va più lenti, ma nel complesso tutto bene. Cosa succede però se la tavoletta, invece di tenerla nella solita posizione, la giriamo e ne teniamo metà immersa nella? Avanzare sarà molto più difficile. La differenza nei due casi sarà proprio la superficie che noi esponiamo all'attrito. Nel primo caso c'è solo il bordo della tavoletta che frena contro l'acqua. Nel secondo caso, invece, abbiamo una superficie più grande, più estesa, che va contro l'acqua. Tutto ciò che ha un angolo rispetto alla direzione del nostro avanzamento farà attrito con l'acqua. Quindi un oggetto che è messo in verticale, come ad esempio la nostra tavoletta, sarà perpendicolare rispetto alla direzione del nostro avanzamento. E questo è il caso estremo, in cui l'attrito sarà massimo. Però ci saranno anche tante situazioni intermedie, in cui il nostro corpo avrà un leggero angolo rispetto all'allineamento orizzontale o un angolo più marcato. Tutte queste fasi devono essere gestite con particolare attenzione. E più si va veloci, più le conseguenze dell'attrito avranno effetto e saranno importanti. E sarà quindi sempre più importante andare a ridurre la superficie del nostro corpo esposta all'attrito. Nella fase subacquea a rana questo aspetto è importantissimo, perché il concetto principale di questo gesto è proprio lo scivolamento. Immagino che questa frase, ascoltata da un qualsiasi ranista, possa sembrare un'eresia, perché quando si pensa alla subacquea a rana ci sono mille dettagli, mille gesti e mille movimenti che gli verranno in mente oltre allo scivolamento. Ma questo succede solo perché, nel loro caso, lo scivolamento viene già eseguito nel modo corretto. Se invece noi ci approcciamo alla subacquea a rana per la prima volta o ci rendiamo conto che le nostre fasi subacquee non sono così efficaci, lo scivolamento è un concetto al quale dobbiamo prestare moltissima attenzione. E questo si traduce nel cercare, in ogni fase della nostra subacquea, di minimizzare l'attrito. Dal momento in cui ci spingiamo dal bordo, e che quindi lo dovremmo fare con le mani ben strette sopra la nostra testa, in una perfetta posizione di streamline, poi durante i movimenti della fase subacquea a rana, fino a quando emergiamo e iniziamo a nuotare. Ma per passare alla parte che più vi interessa, passiamo a vedere quali sono i movimenti che compongono la subacquea a rana e quando vanno eseguiti. La fase subacquea a rana consiste nella concatenazione di quattro movimenti che coinvolgono tutto il nostro corpo. C'è una fase di spinta da parte delle braccia, un calcio con la gambata, un recupero delle braccia in avanti che vanno inserite in un movimento ondulatorio del corpo. Procedendo un po' con lo schema del video al quale siamo abituati, andiamo a vedere prima come vanno eseguiti i singoli movimenti in modo isolato e poi come questi vanno messi insieme. Partiamo quindi dal primo movimento che è quello delle braccia. All'inizio queste sono tese sopra la nostra testa in posizione di streamline, quindi agganciate tra di loro e strette contro la testa. La prima cosa che andremo a fare è ovviamente sganciare le mani, iniziare ad aprirle contemporaneamente. È un movimento simmetrico, quindi i movimenti della parte destra e della parte sinistra del corpo saranno sempre gli stessi e andiamo quindi a aprire le braccia e iniziamo a tirare l'acqua verso il dietro. La tiriamo fino a quando le braccia non hanno raggiunto l'altezza delle spalle e poi la spingiamo sempre verso il dietro, fino a quando le nostre braccia non sono distese e le mani arrivano appoggiate lungo le nostre cosce. In questo movimento le braccia devono essere più o meno all'altezza delle spalle. L'obiettivo è quello di portare le mani che all'inizio abbiamo appoggiate lungo le cosce di nuovo sopra la nostra testa in posizione di streamline. Per ottenere questo risultato non andiamo a eseguire lo stesso movimento della spinta a ritroso, quindi così con le braccia quasi tese, perché in questo modo andremo a massimizzare l'attrito, che è proprio quello che noi non vogliamo fare. L'obiettivo sarà quindi quello di esporre meno superficie possibile e lo facciamo portando le mani in avanti, tenendole il più vicino possibile al nostro corpo. Per portare le mani verso l'alto è possibile anche andarle a incrociare tra di loro. Se scomponiamo questo movimento di portare le mani verso l'alto, avremo una prima parte in cui pieghiamo i gomiti e portiamo la mano e gli avambracci verso l'alto e una seconda parte in cui spingiamo il gomito verso l'alto. Ovviamente questi due movimenti, flessione e distensione, nella realtà non sono scollegati tra di loro e meccanici, saranno un movimento fluido dove è letteralmente impossibile andare a distinguere la prima fase dalla seconda. Come tutti quei movimenti che vengono fatti in direzione contraria rispetto al nostro avanzamento, dobbiamo stare attenti a non farli con troppa fuga e veemenza, perché in questo caso andremo a effettuare una reale spinta in direzione contraria rispetto al nostro avanzamento. Quindi se noi effettuiamo questo movimento con velocità e soprattutto senza prestare attenzione a minimizzare l'attrito, andremo a effettuare una vera e propria spinta. Nel frattempo le gambe che cosa fanno? Se le andiamo a guardare in modo isolato e ci concentriamo solo su quelle, vedremo che effettuano un normalissimo colpo di gambe a rana, un calcio verso fuori e dietro, portando prima dolcemente i talloni verso i glutei, ruotando le caviglie e poi effettuando il calcio verso fuori e dietro, concludendo sempre con i piedi che tornano a toccarsi e le gambe distese. Se ti sei perso il video delle basi della nuotata rana, dove affronta nel dettaglio come fare la bracciata, come fare la gambata e quali coordinazioni utilizzare all'interno della nuotata, ti lascio il link e puoi andare a recuperarlo. Adesso passiamo al quarto e ultimo movimento, che è quello di tutto il corpo, ed è un unico, grande e potente colpa delfino. So che vi sembrerà strano pensare di inserire un colpo a delfino all'interno della fase subacquea a rana, ma questo è concesso ed è effettivamente un grandissimo plus alla vostra subacquea. Ma bisogna stare molto attenti a come e quando lo si fa, per non rischiare di essere squalificati. Abbiamo quindi finora visto in maniera isolata quali sono i quattro movimenti della subacquea a rana. Due movimenti che coinvolgono le braccia, una fase di spinta e una di recupero, e due movimenti che coinvolgono la gambata. Un colpo a delfino e un calcio a rana. Adesso vediamo come questi movimenti vanno inseriti l'uno nell'altro e qual è la coordinazione corretta. Nella rana moderna la versione più utilizzata è la successione di questi quattro elementi in quest'ordine. Il colpo a delfino, la spinta delle braccia, durante la fase di recupero della bracciata, il recupero delle gambe e durante la distensione il calcio della gambata. Ora vediamo assieme un po' più lentamente questi gesti eseguiti da Andrea, il ragazzo che avete visto in tutte le clip precedenti e che nello scorso video ho iniziato a presentarvi. Un atleta ranista, mio compagno di squadra che agli italiani di Roma ha conquistato la finale nei 50 rana. Ok, ci spingiamo dal bordo con una corretta posizione di streamline, molto stretta e lasciamo che il nostro corpo scivoli per un istante di tempo. Prima di sentire che il nostro corpo inizia a rallentare, andiamo a effettuare il colpo di gambe a delfino, che è leggermente più ampio rispetto a quello che eseguiamo nelle fasi subacquee degli altri stili, quindi del delfino, del dorso e dello stile. A questo movimento attacchiamo la spinta delle braccia con la posizione della testa che deve essere in asse con il nostro corpo. In questa versione Andrea invece tiene la testa alta, che è un errore che noi non dobbiamo fare, perché frena il nostro avanzamento, ma soprattutto blocca l'ondulazione del nostro corpo e quindi riduce il vantaggio del colpa delfino. Invece in quest'altra versione tiene la testa molto bassa e il problema in questo caso è che la direzione del nostro avanzamento sarà verso il fondo della piscina e non sarà invece orizzontale rispetto al pelo dell'acqua. Entrambi i due errori, quindi testa troppo alta e testa troppo bassa, vanno evitati. Quando abbiamo completato la spinta con le braccia, le mani sono arrivate lungo le nostre cosce e c'è un altro brevissimo istante in cui il nostro corpo scivola senza che noi effettuiamo nessun movimento. Iniziamo subito dopo la fase del recupero con le mani che passano vicine al nostro corpo e si distendono sopra la nostra testa. E vedete, nel frattempo i talloni si stanno avvicinando ai glutei, Andrea gira i piedi e li mette in posizione a martello ed effettua il calcio nel momento in cui completa la distensione delle braccia. La nostra posizione nell'acqua a questo punto dovrebbe essere vicina alla superficie e dovremmo poter iniziare la nuotata rana. Spero che questo video vi abbia messo un po' di curiosità per iniziare a sperimentare la subacquea a rana, se ancora non la facevate. Mentre se invece la fate già, usate il colpo di ghiambe a delfino per aumentare l'efficacia della vostra subacquea? Scrivetemelo nei commenti che li leggo tutti. Vi auguro buon Natale, buone feste e noi ci vediamo al prossimo video.